Spesso molte persone mi chiedono Non ti piacerebbe avere un figlio? La risposta è no, no Ma semplicemente per un motivo Perché poi ti inseriscono nel gruppo whatsapp dei genitori Peggio ancora in quello delle mamme È quello che ti stravolge la vita Mica il bambino che caga e pisce non dorme di notte Guardate che io ho amici genitori E mi raccontano delle cose assurde Ti arrivano gli audio alle 3 del mattino Sì ciao mamme sono la mamma di Pasqualino Ascoltate ma per la gita di domani cosa devono portare Perché mio figlio Pasqualino non sa niente Anche il vostro Alle 3 e mezza arrivano le risposte di 8 audio di 8 mamme diverse Tra l'altro audio cortissimi 4 minuti barra segniti Buongiorno mondo, buongiorno mamme, buongiorno genitori No volevo solamente augurare una buona giornata Alle 4 del mattino maledetta L'altro audio in arrivo Ma guardate volevo dirvi che mio figlio non viene perché ha la febbre Oh mio dio ma com'è la febbre? Ma guarda fa senta io provare a dargli un'attacchipilina da mille che magari gli passa Vabbè mamme poi vi faccio sapere come sta ok? Arriverà il giorno in cui anche whatsapp si bloccherà e dirà Ragazzi io non ce la faccio più Mi ammazzo, mi uccido Ragazzi io non ce la faccio più Ragazzi io non ce la faccio più Grazie a tutti.